Nel periodo in cui si combattevano le guerre italiane la Chiesa stava attraversando una grande crisi. Aveva cominciato nel 1054 quando si era consumato il grande scisma, cioè la separazione definitiva tra la Chiesa Cattolica d'Occidente e quella ortodossa d'Oriente. Poi nel periodo tra il 1309 e il 1377 ci fu la cattività di Avignone, cioè in pratica quel periodo in cui ben sette papi avevano dovuto risiedere in quella città per stare sotto lo stretto controllo del re di Francia Filippo il Bello. E poi molto spesso la corte papale era luogo di scandalo e non luogo di fede. La scelta del Papa, cioè della persona che doveva guidare la Chiesa, non era fatta in base alla fede e all'esempio, ma spesso era il frutto di trame politiche. In Vaticano erano normali tre atteggiamenti che proprio non avrebbero dovuto esistere. Il nepotismo, cioè l'abitudine a favorire propri parenti per assegnare delle cariche o dei compiti importanti. La simonia, cioè il commercio, la compravendita delle cariche ecclesiastiche. E il nicolaismo, cioè la possibilità che i sacerdoti si prendevano di potersi sposare. L'accusa al Papa era quella di comportarsi come se fosse un re assoluto e tirannico. Uno dei pensatori che criticò questo atteggiamento fu Erasmo da Rotterdam. Egli riteneva, tra le altre cose, che la Bibbia dovesse essere tradotta nelle lingue volgari dei regni europei e accusava la Chiesa di non volerlo fare per mantenere volutamente nell'ignoranza i fedeli. Uno dei tanti problemi che affliggevano i cristiani di allora era come riuscire a stare in purgatorio il minor tempo possibile. La Chiesa concedeva delle indulgenze. Ogni volta che un fedele compiva un pellegrinaggio o partecipava a un giubileo scattava quella che oggi potremmo chiamare una riduzione della pena, cioè in pratica venivano perdonati dei peccati e quindi il soggiorno dell'animo al purgatorio sarebbe stato più breve. Siccome capitava che i più ricchi facessero delle generose offerte per aver ricevuto un'indulgenza, il Papa Leone X nel 1515 pensò bene di metterle addirittura in vendita. Anche perché proprio in quel periodo si stava costruendo la cupola della Basilica di San Pietro e c'era bisogno di tanto denaro. In pratica funzionò così. Il Papa mandò in Germania degli emissari che sulle piazze si misero a vendere le indulgenze. Più gravi erano i peccati e più bisognava sborsare per farseli perdonare. Questo particolare commercio scandalizzò un monaco agostiniano tedesco, Martin Lutero, il quale denunciò pubblicamente la vergogna di una simile pratica e non si fermò lì. Nel 1517 inchiodò sulle porte della chiesa di Wittenberg dove viveva un documento su cui aveva raccolto tutte le osservazioni negative contro la chiesa cattolica ed erano ben 95, 95 tesi, cioè 95 pensieri. Ora però prova a riflettere. Un elenco di 95 tesi scritte in latino affisse sul portone di una chiesa avrebbero interessato ben poche persone. Invece successe che qualcuno le tradusse in tedesco, le stampò e le distribuì per tutta la Germania. In poco tempo migliaia di tedeschi si ritrovarono a riflettere. Ma se io mi pento non otterrò comunque il perdono? E se non avessi i soldi per comprare le indulgenze? Finisco all'inferno? Perché i miei soldi devono servire per costruire una basilica a Roma? Le tesi di Lutero, tradotte, stampate e illustrate con delle caricature e vignette satiriche si diffusero per la Germania e la chiesa rimase letteralmente spiazzata. Questa è una delle vignette più famose in cui si vede ritratto Papa Leone X, vedi con la testa di Leone, e quattro vescovi cattolici che anche loro sono stati raffigurati con delle teste di animale.